Non ci sarà il confronto tra Claudio Scaiola, sindaco d'Imperia, Cosimo Virgilio e Carmine Cedro, così come era stato chiesto dal pubblico ministero Giuseppe Lombardo nell'ambito del processo Breakfast che si celebra a Reggio Calabria e che vede lo stesso Scaiola accusato di procurata inosservanza della pena nei confronti dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, tutto relatitante a Dubai, dopo una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Questa mattina, nel corso della nuova udienza, i giudici hanno ritenuto inutile il confronto tra Claudio Scaiola e i suoi accusatori, in quanto i fatti sono già apparsi chiari. Scaiola, rispondendo al PM Lombardo, oggi ha ribadito di non aver mai fatto parte della massoneria e ha evidenziato di non essersi mai attivato per favorire la latitanza di Matacena, sostenendo che chi lo accusa è stato condizionato. Scaiola ha sottolineato di aver soltanto interloquito con Chiara Rizzo, moglie di Matacena, e Vincenzo Speziali per cercare di risolvere i problemi economici della donna, informandosi con un direttore di banca per sbloccare i fondi che erano alle Seychelles.